Un saluto da Chromeboy e bentornati in U-Bot. Per prima cosa voglio ringraziare e dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che si sono avvicinati al mio canale proprio per questo videogioco. Vi ringrazio veramente tantissimo per esservi iscritti. Questo vorrà dire che probabilmente riuscirò a portare avanti questa serie con un po' più di velocità e per un bel numero di episodi. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo ad andare alla missione del giorno, anzi andiamo a chiudere la missione dell'altro giorno cominciando a gestire questo pacco qua e prendendo i pezzi di ricambio che ci sono e portandoli a bordo e quindi gettando il pacco. Questa cosa potevamo farla in mare. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare dal reclutamento perché abbiamo dei sopravvissuti da mandare sostanzialmente in prigione. Consegniamo tutti i sopravvissuti. Perfetto. In questo momento non stiamo a prendere altri marinai, però in realtà volevo fare una cosa. volevo fare una piccola rotazione. Non che sia utile perché in questo momento questi marinai sono tutti assolutamente anonimi che non hanno dei tratti distintivi, però vorrei togliere uno, due, tre, quattro e cinque e mettere gli altri cinque. Giusto così, per darci l'idea di star ruotando l'equipaggio. Se anche la smettesse di aprirmi le schede dei marinai sarebbe meglio. Perfetto, usciamo da qua e andiamo. Andiamo a parlare col primo ufficiale. Ci sono ordini. Posa mine nel canale della manica. Guerra di tonnellaggio a nord. Media e alta. Io ritornerei nel settore scorso con un altro attacco medio. Selezioniamo. Perfetto, è a questo punto. L'ultima cosa che ci manca prima di partire e andare a recuperare i siluri, molto importante, quelli che abbiamo lanciato. Abbiamo dei T1P, perfetto, 1, 2. Ok, dopodiché il carburante, riforniamo e anche un po' di cibo. Qui pensavo di avere già qualcosa. In ogni caso, tiriamo su un po' del cibo che possiamo. Questo, questo e questo. Perfetto, qui forse deve ancora arrivare qualcosa. Arrivederci. E carichiamo il tutto. Perfetto, due giorni, tre giorni, continua a piovere. Siamo in settembre, 19 settembre. E a questo punto possiamo ripartire sempre per lo stesso settore che avevamo già perlustrato nella scorsa missione. Andiamo sempre avanti un terzo. E ora, per prima cosa, mentre l'ubot parte con questa pioggia, voglio cominciare a andare a gestire i nostri ufficiali. Allora, naturalmente anch'io sto imparando a giocare o a migliorare, sto cercando di migliorare il mio modo di giocare a questo gioco che è effettivamente abbastanza complesso e ha molte scelte. E per far questo sto guardando anch'io dei video su YouTube per imparare a gestire i vari sistemi. Quello che voglio provare a fare oggi è andare a gestire gli ufficiali che per ora sono completamente liberi dandogli una diciamo una tabella oraria. Allora, partiamo con i due i due ufficiali di comando li metto al comando invertiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfetto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allora, no, in realtà non li voglio mettere così, li voglio mettere in questo modo quindi li voglio lasciare comunque delle ore libere dove se devono dormire dormono ma dove se non hanno bisogno di dormire possono comunque stare in servizio sono i due ufficiali. Questi sono invece i due ufficiali di comando facciamo la stessa cosa Allora, in questo modo comunque prendono comunque un'ora di riposo nel prima del turno fanno turni di 6 ore Adesso andiamo a guardare il nostro marconista e uomo ad togli idrofoni Allora, gli diamo turni di 3 ore che penso che sia il modo migliore Perfetto e sono turni di 3 ore A questo punto noi andiamo a rivedere questo a rivedere il piano di immersione perché abbiamo dato dei turni di 3 ore al marconista Io voglio che per 2 ore per queste 2 ore stia il sonor e qui gestisca la radio poi può dormire Quindi 2 ore di immersione 1, 2, 3 4 2 ore di immersione 1, 2, 3, 4 2 ore di immersione 1, 2, 3, 4 2 ore di immersione 1, 2, 3, 4 Questa è una schedule che non ha effettivamente a che fare con il giorno e la notte che ci dà 2 ore di idrofoni 1 ore di radio e fa dormire e fa dormire tranquillamente il nostro marconista che mettiamo comunque anche lui con delle ore tassative di sonno queste penso che siano effettivamente ore di sonno in ogni caso in ogni caso queste sono delle ore dove può fare comunque altro qui di sicuro dorme adesso vediamo se questa cosa funziona allora andiamo a vedere gli incarichi i nostri capitani devono sostanzialmente fare una cosa che è questo la navigare poi hanno la gestione di calmare l'equipaggio ma per il resto tutto a posto il nostro marconista ha bisogno effettivamente di stare prevalentemente al alla radio diciamo prevalentemente alla radio se hai giocare a carte eccetera per i nostri macchinisti invece io proverai a togliere la questione del ricarica siluri e la questione del preparare i siluri e noti allora questa cosa è recupera pezzi di ricambio in realtà vabbè la mettiamo ma non serve queste sono le riparazioni 10 e 10 e quello che ci vuole di sicuro a livello 9 per tutti e 2 e i motori questo vuol dire che noi avremo sempre qualcuno a gestire i motori e qualcuno a gestire la navigazione questo dovrebbe migliorare assolutamente il nostro la nostra capacità di come si dice di andare in giro sostanzialmente di consumare meno carburante ecco qui metto un 7 su questo andiamo a vedere anche le specializzazioni delle squadre gli incarichi dell'equipaggio e quindi è questo possiamo provare a togliere questi questi li lascio ma tolgo l'utilizzo del del periscopio per una ragione di come si dice di stealth di rimanere nascosto voglio che il periscopio venga alzato solo quando necessario mentre naturalmente all'esterno si può andare tranquillamente e io direi che dato che ho visto che ci sono stati diversi problemi nella nella gestione della cucina la scorsa volta io vado a mettere tranquillamente un due turni un turno in cui la cucina è sempre aperta cioè dove la cucina ha una priorità vediamo se può andare bene perfetto noi intanto stavamo stavamo uscendo qua dal porto non siamo andati naturalmente lontanissimo siamo ancora assolutamente nel porto siamo nella chiusa e anzi abbiamo proprio passato ora la chiusa eccola qua e va bene a questo punto che abbiamo fatto tutta la configurazione del nostro equipaggio possiamo cominciare a muoversi abbandonare il porto e andare un'altra cosa che devo fare è andare a livellare i personaggi vedete che hanno tutti una freccettina questo vuol dire che hanno guadagnato un livello apriamoli uno per volta apriamoli le loro abilità e possiamo dargli una nuova abilità allora questo è il primo capo manovrare cannoni competente personale motivatore cominciamo con artigliere in realtà non è utilissimo ma va bene lo stesso continuiamo abilità questo invece è il nostro marconista gli diamo paramedico riesci andiamo sul nostro primo ingegnere abilità ingegnere specializzato questo ingegnere ha grande competenza in manutenzione dei motori quando si trova in impostazione il fumo di scarico dei motori eccetera riparazione 25% di tempo in meno facciamo 25% di tempo in meno ok il secondo invece gli diamo abilità e questo elimina il rischio di guasti e siluri e dobbiamo ricordarci di usare lui quando dobbiamo andare a gestire i siluri e mentre per noi stessi andiamo a darci come abilità rilevare navi motivatore competenze artigliere facciamo competenze motivatori ok esci perfetto a questo punto diamo 2 di equipaggio a wolf che è per qualche motivo sta ancora in torretta e quindi andiamo a vedere di nuovo cosa diavolo ho combinato nell'equipaggio in carichi ah si la torretta comunque è a 7 la leviamo 0 perfetto tu devi comandare tu devi gestire i motori e adesso quando switcherà il turno dobbiamo dare agli altri due in realtà lo possiamo dare da qua andiamo nell'equipaggio andiamo nelle squadre e diciamo che ognuno ha due marinai assegnati 2 2 2 questo no e 2 oppure anche questo si però vediamo ok dovrebbe essere a posto ora possiamo finalmente uscire e spostarci in zona operazioni più velocemente possibile arrivati messaggi radio mercantile singolo avvistato in settore navale AN467 velocina media rota meridionale a zigzag tre lanci mancati un tubo funzionante un inseguimento interrotto per problemi dell'equipaggiamento ok quindi AN467 AN467 è qua e buttiamoci all'intercettazione assolutamente intercettabile tutta la vita noi andiamo abbiamo incontrato anche un un altro bot andiamo a vederlo eccoci qua qua siamo noi là c'è l'altro ubot devo dire che in questa versione 1.0 c'è un sacco di traffico l'U73 scomparsa la posizione proiettata sul momento in cui le comunicazioni si sono interrotte l'accolto nel settore AN571 indaga prima del 25 settembre contatto aggiunto alla mappa ok abbiamo intanto un rapporto noi siamo qua stiamo cominciando ad andare stiamo mandando il rapporto e abbiamo questo ubot su cui indagare ma noi continuiamo ad andare e anzi una cosa che stavo dimenticando cominciamo anche a immergerci allora dicevamo U73 AN571 AN571 è fuori dal nostro in realtà dal nostro raggio di missione quindi per il momento andiamo così allora sembra che il sottomarino stia a pelo dell'acqua quindi effettivamente io devo fare una piccola modifica ora nell'equipaggio perché se il sottomarino sta a pelo dell'acqua questo deve essere 9 e questo deve essere 8 o anche 7 perfetto e naturalmente 10 e 11 esci ok a questo punto è andato all'idrofono finalmente vediamo se troviamo qualcosa c'è un contatto in avvicinamento andiamo a intercettarlo di cosa si tratta di una unità finalmente il primo cliente del giorno dovrà un po' a raggiungerlo ok eliche media eliche navali funzionanti allora perché è tornato in unità 2.6 velocità media distanza 50 km intercettazione impossibile ed è fuori dal nostro raggio di orientamento ma non ci dice la direzione vediamo se riusciamo a seguirlo sta entrando così allora proviamo a tagliare in questa direzione e aspettiamo la prossima immersione per vedere se lo troviamo abbiamo trovato qualcos'altro un'altra unità velocità alta velocità alta mi preoccupa di solito sono navi militari ma è strano un'unità singola da a 80 km va bene noi continuiamo ad andare uh questo è molto vicino 5.12 in allontanamento intercettazione impossibile ma noi possiamo effettivamente andare a accelerare un po' e vedere se riusciamo a beccarlo dove siamo eccoci qua uh no è lontanissimo sono 300 km no 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 avanti un terzo e continuiamo in questa direzione e vediamo se troviamo qualcosa abbiamo trovato qualcos'altro 50-80 media in allontanamento quindi non inseguiamo media in allontanamento sempre altro messaggio radio convoglio nel settore navale AM399 in inseguimento distinto a due mercantili e tre navi da guerra eh non è il massimo questo messaggio è seguito dal segnale di rilevamento possiamo tracciare la sorgente finché la trasmissione è attiva AM399 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 mi sa che è fuori dal settore assolutamente e quindi noi continuiamo per la nostra e speriamo che gli altri trovino qualcos'altro allora sto più o meno guardando i livelli di fatica dei delle nostre persone sembrano tutte a posto per il momento nuove comunicazioni radio intanto mercantile settore navale N186 è fuori dal mondo non so neanche perché è arrivato è qua il 186 103 106 109 108 si ok è qua vai facciamo finta di niente e continuiamo ad andare a sud distanza 80 più chilometri anche lui è troppo lontano incredibilmente rispetto alla scorsa puntata sembra veramente che abbiamo anche questo 80 chilometri più sembra che abbiamo veramente tantissime navi pochissime navi in questo settore grazie grazie E questa è un'altra unità a 80 km, intercettazione impossibile ma noi proviamo ad andare allo stesso e abbiamo completato la nostra missione e possiamo pensare di cominciare a rientrare. E purtroppo è abbastanza nella logica della guerra avere una serie di missioni che non vadano a buon fine ma attenzione abbiamo una nave tra i 50 e gli 80 in allontanamento. Quindi la molliamo qua, torniamo in superficie e andiamo verso casa. Un membro dell'Equipaggio ti informa di aver sentito Manfred Herrmann esprimere dubbi generali sulle giustificazioni della guerra. Sembra che ne stia parlando sempre più apertamente. Come gestirai questa situazione? Suggerisci di essere più discreto, cominciamo a mandare gente alla corte marziale. Così a settembre del 39. Anche perché le giustificazioni della guerra sinceramente non sono esattamente il nostro piatto forte. Eccoci di nuovo in superficie, penso. Ok. Il nostro marconista è tornato a dormire, noi stiamo tornando in superficie. Tornaci anzi. Grazie. E mandiamo tutto quello che abbiamo recuperato. Ok. Come vedete abbiamo ancora un buon 44% del nostro carburante, mentre rientriamo al porto. Ed eccoci di ritorno. Allora, non abbiamo fatto praticamente un granché di punti, un più uno per l'incarico completato. Ma tutto il resto è più o meno. Fermo qui. L'esperienza dell'equipaggio è aumentata di 130 punti. Questo dovrebbe darci probabilmente qualcosa nelle specializzazioni. No, non abbiamo ancora preso un primo punto. E ci fermiamo qui per questo episodio. Nel prossimo episodio torneremo in mare e speriamo di avere più fortuna con la nostra caccia. Per ora è tutto e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.